Mirjana Trevisan fa una confessione shock, stavo per morire prima del GF VIP Grande fratello VIP, Mirjana Trevisan shock, stavo per morire In quest'ultima puntata del GF VIP sei le polemiche e i colpi di scena non sono certo mancati E giusto poco fa Alfonso Signorini ha chiamato Mirjana Trevisan nella Mystery Room per fare una chiacchierata In questa occasione Mirjana Trevisan ha fatto una confessione shock che Ha lasciato a bocca aperta tutti gli inquilini VIP della casa più spiata dagli italiani Cosa ha detto? Mirjana Trevisan ha rivelato di aver rischiato di Morire pochi mesi prima di fare il suo ingresso nella casa del grande fratello VIP sei Il 3 agosto mi hanno tolto l'utero, ammetto che stavo rischiando di morire Mirjana Trevisan confessa al GF VIP, la famiglia e i miei amici mi sono stati vicini Mirjana Trevisan in lacrime al grande fratello VIP sei, dopo aver fatto questa clamorosa rivelazione Mirjana Trevisan ha anche colto la palla al balzo per ringraziare sentitamente tutta la famiglia e I suoi amici che le sono stati vicini in quel momento della sua vita davvero complicato Famiglia e amici non mi hanno mai lasciata sola Mirjana Trevisan, la quale ha avuto un flirt con Nicola Pisu Ha confessato che dopo questa operazione ha iniziato un periodo di rinascita, adesso sto vivendo una rinascita vera e propria Alfonso Signorini fa gli auguri a Mirjana Trevisan al grande al fratello VIP, adesso inizia una nuova vita Ha poi preso la parola Alfonso Signorini stasera al GF VIP sei volendo augurare a Mirjana Trevisan di iniziare una vita nuova d'ora in poi L'hai già iniziata a costruire dentro la casa del grande fratello VIP sei E Mirjana Trevisan ha subito risposto al conduttore che in effetti grazie a Questa partecipazione al GF VIP ha dato una svolta netta e decisa alla sua vita Una volta finito questo momento la concorrente è stata raggiunta da tutti inquilini, che l'hanno abbracciata teneramente